Il movimento, è vita. E noi abbiamo il luogo giusto che fa per voi, con la professionalità e l'esperienza, per guidarvi verso il vostro benessere. Centro Sportivo Campi Verdi. Ama la vita. Ama lo sport. Il Centro Sportivo Campi Verdi, dispone di una scuola calcio, di un campo da calcio a 5. Centro Sportivo Campi Verdi. Campo di calcio a 8 e campo da tennis. Ama la vita. Ama lo sport. Questa volta ripartiamo dal tennis. Ama la vita. Ama lo sport. Ricordiamo inoltre, che tutti i tappeti dei campi del Centro Sportivo Campi Verdi, sono in erba sintetica. Innovativi, ed ecco sostenibili. Il Centro Sportivo Campi Verdi, mette a disposizione per tutti, racchette e palline da tennis. Ama la vita. Ama lo sport. Ama la vita. Ama lo sport. Il Centro Sportivo Campi Verdi, vi aspetta in via Domiziana, chilometro 21 a Mondragone. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al numero in sovrimpressione. Ama la vita. Ama lo sport. Ama la vita. Ama lo sport. Ma l'amore. 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 Ma l'amore